SNC domani alle 15 nella vasca del Palenel Marco Galli per la terza giornata del campionato di Serie 2. I dettagli nel servizio. Alla prossima notizia esordio domani alle 13.30 per la tirena di Alessio Buffardi nel torneo di Serie B maschile. La formazione di Civitavecchia affronterà la promosport nell'impianto cittadino del Palenel Marco Galli. Continuiamo ancora con lo sport. Inizia domani il girone di ritorno per tutte le squadre della pallavolo Civitavecchiese. I fari puntati sulla B2 maschile dell'Asp che alle ore 18.45 a Roma sfida l'Arvalia. I ragazzi di Cocce Pignatelli sono penultimi in classifica ma comunque a un solo punto di distanza dalla zona salvezza avessimo vinto più tiebreak che saremmo in un'altra posizione affermato l'allenatore che per la sfida di domani dovrà fare a meno del centrale catena. In campo invece in Serie C sempre maschile. Un derby del comprensorio fra Civo Volley e Ladispori. Alle 21 al Palazzetto dello Sport di Civitavecchia. Una sfida fra due squadre che lottano per non retrocedere. Chiude il programma la Serie C femminile dell'Asp alle 18.30. Sempre il palazzetto. Prima panchina per Milo di Remigio contro il team di Alessandro Volta. E' scomparso oggi all'età di 81 anni Giuseppe Dido Guerrieri. Il mondo della pallacanestro italiana piange il natio di Civitavecchia. Uno dei più grandi tecnici italiani di sempre, di Itali, nel servizio di Alessio Alessi. Se n'è andato Dido, Civitavecchiese doc, un vanto della storia della nostra città, della pallacanestro locale, nazionale ed internazionale. Io l'ho conosciuto al Pincio dove fece un corso per allenatori ad un gruppo di giocatori della cestistica. Io ero tra quei fortunati. Il presidente della cestistica, Pietro Rinaldi, lo ricorda così. Il mondo della pallacanestro italiana è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Dido Guerrieri. Laureato all'Isef e con un'esperienza di insegnante scolastico, il professore, così era soprannominato l'allenatore di Civitavecchia, si è spento nella sua casa di Sesto San Giovanni all'età di 81 anni. Era entrato nella Hall of Fame di basket italiano nel 2011. Dopo una carriera passata su tante prestigiose panchine, dagli esordi alla guida della Fortitudo Bologna, 73-74, alla conclusione della sua avventura in tre riprese con l'Auxilium Torino, 83-86, 89-91 e 93-95. È proprio nel capoluogo piemontese che ha raggiunto i risultati migliori con tre semifinali raggiunte in maglia Berloni. In mezzo, gli anni di Milano, 74-78, dove fu vice di Cesare Rubini e i passaggi da Udine, 78-79, Venezia, 79-80, Vigevano, 81-83, Roma, 86-88 e Desio, 88-89, in una stagione coronata con la promozione in A1. Il nazionale è stato il braccio destro di Giancarlo I e ha conosciuto anche gli Stati Uniti, avendo lavorato a Seattle. SNC domani alle 15 nella vasca del Palenel Marco Galli per la terza giornata del campionato di Serie 2. Sentiamo il servizio. Terza uscita per la Enel SNC di Petra Zimonic in Serie 2 di pallannuoto, ancora una volta in casa, nel gioiello casalingo Stato del Nuoto, domani alle 15 contro il Basilicata. Nelle prime due uscite Rosso Celesti si è potuto vedere un impianto tecnico potenziale di gran livello, monitorato con una chirurgica attenzione da Petra Zimonic e che vede nella stratosferica coppia Calcaterra-Diogas probabilmente le due espressioni offensive migliori della categoria. Ancora però Rosso Celesti acerbi, i meccanismi e le dinamiche necessitano di giuste relative tempistiche per un gioco eccellente, ma purtroppo non proprio continuo. Le azioni, quando i talenti Rosso Celesti giocano, risultano piacevoli e relativamente semplici grazie alla facilità di un valore tecnico che lo consente. Forse ad oggi la continuità di gioco risulta l'unica incognita da analizzare per Zimonic che si esprime sul match di domani. Abbiamo preparato la partita con estrema attenzione, esordisce l'allenatore dell'SNC, vedendo diversi video e studiando le meccaniche tecniche del Basilicata. Hanno dei giovani elementi molto validi, provenienti dai settori giovanili di società come Posillipo e Canottieri. Noi dobbiamo fare il nostro gioco e disputare un match tranquillo. Nella gara con il Viznova abbiamo giocato con una certa intermittenza, esprimendoci a tratti. Dobbiamo trovare costanza e rendimento e credo che nel corso delle partite potremo trovare la formula ottimale per raggiungere quei meccanismi e continuità che attualmente abbiamo a tratti. I nostri giocatori, continua il tecnico, hanno esperienze e sono competitivi in questa due, ma forse il loro gioco, a volte, la loro furia agonistica e volontà di esprimersi al massimo, che è sempre una nota estremamente positiva, rischia di far mancare un gioco corale e dinamico. Dunque, sia la creatività, ma con un'altrettanta amministrazione di attenzione a tutte le fasi di gioco, puntando ad una nota fluida e dinamica. Nel campionato di Serie 3 femminile, la Valentino Auto Santa Marinella sarà impegnata domani alle 18.30 al Palà de Angelis, dove arriveranno le Romane del San Raffaele. Nel torneo di Serie C1 maschile scendono domani in campo ASD e Atletico Sacchetti. Il team di De Fazzi sarà impegnato alle 15.00 sul rettangolo del Fondi. Quello di Nuzio ospiterà alla stessa ora il Folgarella 2000. In Serie C2 la TD Santa Marinella sfiderà in casa, sempre alle 15.00 il Valle dei Casali. Bene, questa era l'ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti. A me non resta che augurarvi la felice prosecuzione con i programmi di Provincia TV. Grazie e buon proseguimento di serata. Grazie.